Il grande successo della Campagnola, ve lo ricordate? Poi il Pallo del Cavallo, chi non si ricorda il Pallo del Cavallo? E anche nei film, un grandissimo successo! E soprattutto dopo l'ultimo grande successo dedicato a Papa Francesco è davvero un grande onore e un grande piacere per me presentarvi Gigione! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti! Grazie a Miancio, grazie per l'auriamo un po' per tutti i nostri fan che stanno in piazza stasera Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra! Ui, ha chiamato una sacca alla grande Ha chiamato una sacca a tutta la grande da Gigione Ricordiamo questa cosa, non è un concerto come ci vedete ovviamente qualche volta per televisione è una mia ospitata ma senz'altro ci diventiamo lo stesso, va bene così? Andiamo subito con un mio grande successo Ah, trapanare Come mi piace a trapanare Ah, trapanare Ah, se tutta buca non buca ca Ah, ah Tutti con le mani a cocinciore Fai un'altra Ah, 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 ah Eh, ah, ah, ah C'è bene, più la mano Eh, eh Eh, eh C'è sinistra Eh, eh, eh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.